Sto lavorando per Emergency, faccio la mediatrice socioculturale. Siamo qui oggi al Career Day per cercare dei tirocinanti e degli stagisti che aiutino nella comprensione, nella traduzione tra medico e paziente, sia per quanto riguarda la medicina e quindi medicina generale, gli specialisti, che per il punto di ascolto, che è un servizio offerto dal poliambulatorio di Emergency da agosto 2012 e servono persone che siano in grado di parlare le lingue madri dei pazienti che afferiscono al punto di ascolto.